C'è quello che ha detto in un'interview con una cinzana di agenze di pressa. La cosiddetta brigata francese. Parigi addestrerà e armerà 4.500 militanti ucraini e per fare questo invierà i suoi istruttori militari a Kiev. Filippo considera che con queste misure Macron sta svuotando ulteriormente gli arsenali dell'esercito francese e accelerando l'escalation verso la Terza Guerra Mondiale. Filippo conclude dicendo che questa agenda di guerra deve essere fermata il più rapidamente possibile. Lasciamo la Nato, liberiamoci di questi piani sanguinosi, questa guerra non è la nostra guerra.